A Piacenza e Provincia per il momento proseguono le restrizioni in atto finora previste per la zona arancione, tra le quali bar e ristoranti chiusi, e per quanto riguarda la scuola presenza al 50% alle superiori. Per quanto riguarda invece le scuole medie, in particolare di Monticelli-Dongina, le elementari sono in presenza, mentre le medie, a causa del numero di positivi in aumento, hanno subito restrizioni. Abbiamo problema alle scuole medie, sono stati trovati dei positivi in seguito ai tamponi, perché un docente ha risultato positivo, per cui noi adesso in questo momento abbiamo le scuole medie ferme, quindi con un numero di quarantenati che è aumentato. In particolare? In questo momento abbiamo tutta la scuola media a casa, in quarantena, sono due le classi che hanno visto la quarantena prolungata fino al 17, le altre classi sono a casa, anche se i tamponi sono andati bene, cioè hanno avuto anche esiti negativi, aspettiamo le istruzioni dell'ASL per vedere quale sarà il rientro delle classi. Elementari e medie condividono lo stesso edificio, ma l'ASL ha tenuto conto di tutti i contatti, quindi non ci sono problematiche legate alla condivisione, il personale è differente e tutto viene regolarmente sanificato. Nel pomeriggio è stata poi confermata anche la quarantena per 10 insegnanti, che impedisce di far tornare in presenza alcune classi.